Un sacerdote deve sempre essere radicato nella croce di Cristo facendo perno in quell'unico punto per orientare tutta la propria esistenza, come fa il giocatore di basket per difendere la palla e poi magari mandarla a canestro. È l'immagine che Papa Francesco ha usato per indicare la missione del sacerdote nel mondo contemporaneo. L'occasione è stata l'incontro con il clero della Diocesi di Roma per il tradizionale appuntamento di inizio quaresima nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Dopo aver confessato alcuni parroci il pontefice ha tenuto una lunga meditazione dedicata al tema il progresso della fede nella vita del sacerdote. Per vivere, crescere e perseverare nella fede sino alla fine dobbiamo nutrirla con la parola di Dio, dobbiamo chiedere al Signore di accrescerla. È una fede che deve operare per mezzo della carità, essere sostenuta dalla speranza ed essere radicata nella fede della Chiesa. Papa Bergoglio ha in particolare messo a fuoco tre punti, la memoria, la speranza e il discernimento. Crescere nell'abbandono fiducioso al Signore che è sempre fedele, percorrendo lo stesso cammino di tentazioni e di fallimenti che fece Simon Pietro, vuol dire anzitutto collocarsi nella storia della salvezza. Teniamo ben presente che progredire nella fede non è soltanto un proposito volontaristico di credere di più d'ora e inanzi. È anche esercizio di ritornare con la memoria alle grazie fondamentali. Si progredisce ritornando. Si può progredire all'indietro, andando a cercare nuovamente tesori ed esperienze che erano dimenticati e che molte volte contengono le chiave per comprendere il presente. Questa è la cosa veramente rivoluzionaria, andare alle radici. E andare alle radici significa anche guardare con speranza al futuro perché la nostra non è una fede davanti al muro, ma una fede che si apre alle sorprese di Dio. E se la speranza è l'ancora ancorata nel cielo, il discernimento è ciò che concretizza la fede, ciò che la rende operosa per mezzo della carità. A tutti i presenti Papa Francesco ha rivolto parole di incoraggiamento, invitando a camminare nella fede per portare a compimento la propria esistenza, senza rimanere formati a metà. La tentazione sempre è presente nella vita di Simon Pietro e la tentazione sempre è presente nella nostra. Di più, senza tentazione non si progredisce nella fede. Padre nostro chiediamo la grazia di non cadere, ma non di non essere tentati. A me piace ripetere che un sacerdote, un vescovo che non si sente pecatore, che non si confessa, si chiude in sé, non progredisce nella fede. Grazie. 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 Grazie.